Paolo Paoli New, iscriviti al canale, mettete mi piace o non mi piace, condividete e commentate e seguite le pagine Facebook, ciao! Ciao amici, siete voluti per un'avventura movimentata? Movimentiamo le cose! Stoppigniamo, stoppigniamo! Non mi sento! Stoppigniamo, stoppigniamo! Stoppigniamo tutte! Voglio un'avventura! Stoppigniamo, stoppigniamo! Voglio giocare con voi! Voi abbiamo contati sia con me! Vado con Topolino! Topolino! Ciao amici! C'è bel giorno per loro! Ciao amici! Tu non sa come chiama, ma non so perché io lo so, che tutto volino un barzello! Avevo abbiamo contati sia con me! Vado con me! Vado con me! Vado con me! Avevo abbiamo contati sia con noi! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.